Per un soffio non ti sei aggiudicata la vittoria di questa sera, come è stata la tua esperienza qui con noi? Beh questa è una bellissima esperienza perché comunque mi dà modo di confrontarmi insieme ad altre persone e quindi è sempre una bella esperienza Io ti faccio i complimenti perché mi è venuta la palle d'oca sentendoti e tra l'altro hai scelto due canzoni, una più bella dell'altra, come mai questa scelta? Perché sono canzoni che mi trasmettono delle grandi emozioni e solitamente canto solo canzoni che sento mie e quindi che mi fanno venire i brividi fondamentalmente Io credo che tutta l'emozione che hai provato tu sia stata trasmessa al pubblico, per un soffio non è bastato, veramente per un pugno di voti però ti ringrazio tantissimo, ancora tanti complimenti Grazie a voi A presto Grazie, ciao Ciao, sai cantare, recitare, ballare, suonare, però non così vicino, mi da fastidio Oppure pensi di avere un talento bizzarro, accattivante o particolare E a questo punto partecipa gratuitamente alla seconda edizione di Bulli e Pupe Art Contest La ricerca dei talenti è appena cominciata, richiedi informazioni o iscriviti commentando questo video o inviando un sms o whatsapp al numero 320 22 45 117 Ah, si vincono anche dei premi e io vi aspetto sul palco, sono qua a Libari Caffè Bulli e Pupe Art Contest, dal 19 ottobre tutti i giovedì a Libari Caffè di Voghera Posso, abbiamo finito? Ok No, almeno, no, tira su una telecamera che non ho solo le scarpe, non ho solo le scarpe